A distanza di ore si parla ancora dei licenziamenti in casa WWE. La notizia è grossa, è stato un fulmine a ciel sereno soprattutto per gli atleti coinvolti. La maggior parte di questi ha ringraziato comunque la federazione per gli anni passati al suo interno, mentre qualcuno come Aleister Black è andato un po' oltre raccontandoci qualche dietro le quinte. Ora faccio un inciso, poi andiamo a vedere cosa ha detto Aleister Black. Ragazzi sono preoccupato da molti commenti che leggo sotto i miei video, ma roba completamente fuori bersaglio tipo la WWE sta fallendo, hanno taroccato i loro bilanci, sono impazziti, fanno uso di sostanze strane. Ho dovuto fare anche delle moderazioni sotto questo punto di vista. Ecco, io che propongo contenuti non sensazionalistici, spesso incentrati su queste tematiche, vi invito a scoprirli o a riscoprirli, perché i video che pubblico sui bilanci, sulle analisi economiche, sull'outlook per il futuro della WWE, estrapolandolo dalle conferenze pubbliche dei dirigenti della compagnia, sono sempre i meno cliccati e i meno commentati. E se voi non volete imparare quello che c'è dietro alla notizia, quello che c'è oltre al rumor che leggete su internet, poi si arriva a una pubblicazione di commenti che non stanno né in cielo né in terra. Quindi se volete capire il wrestling senza rischiare brutte figure o passare per ignoranti di fronte agli occhi di chissà, informatevi bene e pensate bene a cosa state scrivendo. Cioè millantare o ipotizzare che WWE abbia dei bilanci taroccati è da folli. È come dire, tradotto, che si è figli dell'incrocio tra una stufa e un calorifero, cioè chiunque vi riderebbe addietro. E questo è un po' l'effetto che fate, su chi le cose le sa. Quindi attenzione, richiamo tra virgolette Bonario al cercare di entrare con maggior attenzione su questi temi. Di che sono trattati? Perché la mia proposta video riguarda anche questo. Detto ciò, Lester Black dopo il licenziamento ha parlato in una live su Twitch nel canale della sua compagna Zelina Vega. Un altro piccolo inciso. Ieri sera io e Luca Franchini abbiamo proposto delle live proprio sui licenziati, sia su YouTube che su Twitch. Vi invito a recuperarle, sono stati toccati tanti argomenti interessanti. Ad ogni modo, andiamo sul focus di questo video, ovvero le parole di Lester Black. E qui ne abbiamo un riassunto che ci viene fornito dal sito Wrestling News Co. Uso questo, ma insomma si trovano anche su molti altri. Allora, Black ha detto che quando è stato informato del licenziamento, gli è stato detto che tutto ciò è avvenuto per tagli al budget. Eccolo qua, Budget Cuts, che non è una parolaccia ma è taglio al budget. Ha parlato anche del suo personaggio, quello nuovo, che ci stava proponendo, dipingendolo come una persona malvagia con dei problemi legati alla perdita di memoria. Un tizio che sa, o sapeva, di aver commesso qualcosa di cattivo, di poco pulito, di negativo nel passato, ma non riusciva a ricordarsi esattamente cosa. E ha anche difeso il team creativo della WWE, quindi i soggettisti e gli sceneggiatori, per aver generato, probabilmente anche con qualche suo input creativo, questo alter ego. Facendo notare però che tutti i dialoghi e tutti i momenti parlati di cui è stato protagonista non erano farina del suo sacco, ma sono stati scritti per filo e per segno da questo comparto. Aleister Black ha anche aggiunto che tutti i segmenti in cui è comparso, segmenti televisivi, hanno ottenuto degli ottimi ratings, degli ottimi ascolti, e che questo gli ha permesso di vendere un sacco di merchandising. E anche per tali motivi è rimasto un po' perplesso sul fatto che la WWE abbia deciso di non proseguire la partnership con lui. Ciò nonostante ha voluto esprimere gratitudine alla WWE, a Vince McMahon, a Triple H, a Paul Heyman e a tutti coloro che hanno lavorato al suo fianco. Per quanto riguarda la rivalità con Big E, che sembrava sul punto di nascere, Black ha detto che non sapeva in quale direzione si sarebbe poi spostata, come sarebbe dovuta proseguire, ma solo che era nei piani e doveva scoppiare già nella prossima puntata di SmackDown. Poi ha parlato di alcuni rumors che hanno girato su internet tempo fa riguardanti una sua presunta richiesta di tornare a NXT. Ha detto che non c'è stata questa richiesta, ma tuttavia che la WWE si è detta aperta a valutare questa idea. Quindi nelle parole di Aleister Black l'idea veniva dalla WWE, che poi però ha cambiato rotta, ha fatto una virata e ha deciso di dare il via libera a questo nuovo personaggio con il libro del Padre Oscuro che ci stavano raccontando. Aleister Black ha anche detto di aver letto dei report secondo i quali Vince McMahon non sarebbe stato del tutto convinto su di lui, insomma che non lo reputava bene, che aveva una brutta idea su di lui, not being high on him. Però Black ha detto che non sono mai stati veri questi report e che anzi Vince McMahon was high on his character, ovvero che Vince McMahon apprezzava molto il personaggio che stava tentando di creare. Alcuni dei problemi di Aleister Black a cui dice il pezzo possono probabilmente essere nati a livello di inserimento nel roster e nelle vicende televisive quando Paul Heyman ha perso il ruolo di executive director, direttore esecutivo di Raw. Visto che è opinione comune che alcuni degli atleti che Heyman favoriva, come Andrade o Aleister Black, stessero ricevendo grandi attenzioni proprio per via di questa vicinanza, chiamiamola così, di questo desiderio da parte del dirigente, di questa corrispondenza d'amorosi sensi, per metterla in maniera un po' più poetica. Black ha aggiunto di non credere a tutto quello che leggerete su internet e che molte cose che vengono pubblicate sono estrapolate dal loro contesto e quindi non permettono al fan la giusta e doverosa valutazione. Quando si è fermato, cioè quando è sparito per sette mesi, Black ha detto che in realtà gli fu riferito che lo avrebbero lasciato lontano dalla tv per poche settimane e poi è rimasto stupito nello scoprire gli altri nomi licenziati insieme al suo. Per chiudere, ha aggiunto che ha passato parecchi anni buoni in WWE e nel mondo del wrestling che pensa di avere altri buoni dieci anni come combattente, quindi vuole lottare ancora per almeno altri dieci anni e che è comunque anche aperto all'idea di aprire una scuola dedicata all'insegnamento della disciplina. Quindi queste sono le sue parole, il riassunto ovviamente di quello che ha detto ospite su Twitch negli spazi di Zelina Vega. Non è uscito un profilo rancoroso, una Leicester Black tutto sommato dritto al punto, abbiamo visto che su Twitter ha già cambiato il nome, è tornato a quello che adottava prima di arrivare in WWE, ma la cosa più importante è che conferma questa cosa, cioè motivi di bilancio, tagli al bilancio. E l'anno scorso WWE ha chiuso il 2020 con il bilancio più ricco come guadagni dall'intera sua storia. E quindi, come abbiamo anche detto ieri sera nelle dirette, come tutto il mondo del wrestling sta discutendo e speculando il mondo dei siti, quelli che fanno analisi, beh, se un'azienda agisce così in un momento di non problematica economica, beh, vuol dire che effettivamente o stanno pensando alla vendita o hanno bisogno di portare i loro bilanci in attivo alle stelle per qualche altro motivo che al momento, ad ora, ci sfugge. Perché una grande entità aziendale, e io ci ho lavorato, licenzia quando i bilanci sono negativi. Nel momento in cui c'è una perdita rispetto anche solo al guadagno previsto, si licenzia, si diminuiscono gli ingaggi, si tagliano rami d'azienda, si rinuncia dei comparti, si delocalizza o si vende qualcosa. Ma questo non è il caso della WWE. hanno fatto una barcata di soldi. Il Covid non li ha assolutamente abbattuti, anzi, paradossalmente, è stato un toccasana aggiuntivo per la loro finanza interna. E dunque sta prendendo sempre più piede l'ipotesi che possa esserci a breve una scalata aziendale alla federazione, magari guidata da delle holding che comprendono fondi di investimento, organizzatori di eventi, sceicchi, emirati e cose di questo tipo. Anche qui potrebbe trattarsi semplicemente di aria fritta, però lo ripeto, è molto strano che una società con i bilanci così in regola, così inattivo, licenzi per motivi di bilancio, per motivi di budget. E non è che il bilancio è taroccato, cioè toglietevelo dalla testa, pensare queste cose, ragazzi, insomma, sì, se avete sei anni ve lo concedo, ma con la possibilità di informazione che c'è oggi, no. Con questa cosa qui, col fatto che siete a un click di distanza dalle informazioni vere, no. Anche perché se fosse così, insomma, prima o poi qualcuno se ne accorge, sono in America, vuol dire andare in galera lì e non lavorare mai più, e avere uno smacco reputazionale, umano, insomma, irreparabile. Quindi toglietevi dalla testa queste cose e iniziate ad entrare nell'ottica che c'è un movimento aziendale interno della WB che ancora non ci è chiaro e che forse lo diventerà da qui a qualche settimana o a qualche mese, o magari non ce lo diventerà mai del tutto chiaro, perché certe informazioni finanziarie non vengono diffuse nemmeno a coloro come me che vanno a cercarle con l'anternino, perché sono patrimonio esclusivo e non condiviso dell'azienda che le ha in pancia e di cui fanno in qualche modo parte, fanno parte del tesoro aziendale e della mappa che permette all'azienda stessa di navigare nel mare del mercato.